Russia e Giappone verso il miglioramento delle relazioni bilaterali. A Mosca il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha incontrato l'ex ministro degli esteri nipponico Masaiko Komura. Nel corso dell'incontro Mosca ha criticato gli Stati Uniti che hanno inviato un caccia-bombardiere a lungo raggio B-52 sulla penisola coreana in risposta al test nucleare di Pyongyang. E' necessario sviluppare l'intera gamma delle relazioni russo-giapponesi, sia a livello bilaterale che internazionale. Siamo pronti a farlo. Speriamo che i nostri amici giapponesi siano disposti a questo e a risolvere i problemi in gran parte creati artificialmente, ha detto Lavrov. Una delle maggiori dispute tra Russia e Giappone è quella territoriale per le isole Kurili che si affacciano sul mar di Okhotsk e sull'oceano Pacifico. La contesa è iniziata più di 150 anni fa. Il primo accordo risale al 1855, quando i due paesi si divisero le 60 isole dell'arcipelago dimenticando le Kurili. Nel 1875 l'arcipelago veniva definitivamente annesso all'impero giapponese. Le isole, tutte di natura vulcanica, sono difficilmente accessibili perché presentano coste frastagliate, assai imbattute dai venti.